Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break2Player, eccoci qui con The Witcher 3 Wild Hunt e siamo all'Indenvale, che è l'ultimo villaggio che ci rimaneva da esplorare, qui nella terra di nessuno di Velen. Allora, intanto vediamo che ci sono dei tizi che si stanno affrontando qui, quindi vediamo di raggiungerli e parlare con l'allibratore, ok? I'm ready, let's fight. Good folk, fish golpers finally found a foe. Right here, right now, on the field of honor, he'll face none other than Geralt of Rivia via Hammer. Spare me a minute afore the fight master, please. Cutta your mugs plain as day, what am I beside ye? I just want to live. These days streams are bereft, no fish for me to gulp, and they's given a sack of flour to the winner. Show some pity, take a fall for me. Ok ragazzi, quindi non abbiamo accettato Aya di appunto perdere volontariamente, quindi vediamo di sconfiggere questo pescatore. Ovviamente non è un avversario troppo forte. Vedete, abbiamo già ridotto a zero la sua stamina. L'abbiamo messo all'angolo. Stiamo semplicemente colpendo, non stiamo facendo contraattacchi né niente. Ok. Ok ragazzi, va bene. Oggi ci dedichiamo a questo. Allora, prima di tutto andiamo a vedere il corone 70, ci siamo presi. Andiamo a vedere cosa abbiamo in questa bacheca. Ben tre missioni. Allora, un mostro alla mia tenuta. Brava gente, Riardon, la mia tenuta in famiglia. Festa da mi mostri. Il maniero e gli edifici circostanti sono ormai inaccessibili. Ci vuole fegato anche solo a sbirciare al loro interno. Figuriamoci a entrarci. La tenuta è tutto ciò che mi rimane. Perciò vi imploro che comunque abbiamo briscio di carità e di pietà per una vecchia donna in difficoltà venga da me. In cambio avrò la mia tenuta in gratitudine. E anche qualche soldo, possibilmente. Contratto per Dio solo sa cosa. Camminando ai moschi, recente ho notato strane tracce che non avevo mai visto. Vi sapete che faccio questo mestiere da parecchio. Mi conoscete e sapete che non sono una femminuccia, ma posso assicurarvi che sento puzza di pericolo. Se qualcuno ha visto o pensa di riconoscere le tracce, venga da me e avrà una ricompensa. Ok. Mostro al cimitero. Brava gente, l'indelvele d'intorni. Che ha visto intenzione di rinforzi al cimitero, se lo levi dalla testa. Poi un mostro ha iniziato a profanare tombe e a causare danni di ogni genere. Di recente attaccato, chi ha osato entrare, ripite il figlio del mugnaio. Perciò se avete buon sesto, girate a largo. Se invece avete coraggio e abilità, uccidete il mostro per noi e i vostri sforzi. Saranno ricompensati. Ok, poi qui... Byfron prende la roba e non la restituisce mai. La guerra sta arrivando. E la vive pestinenza, ma già sentate. Vabbè, niente di eccessional. Dunque ragazzi, abbiamo fatto una missione del... Come si chiama? Missione secondarie... Pugni furiosi, Venen. Dobbiamo sconfiggere Smitty e Jonah. Ok, Smitty e Jonah. Che si trovano? Dunque, una taverna del crocevia e una a ramo nero. Allora, abbiamo avviato queste missioni qui all'Indenvale. Vedremo di farne un'altra volta perché adesso ci dedichiamo ai pugni furiosi. Quindi, viaggio rapido? No, viaggio... Viaggio rapido. Andiamo alla taverna del crocevia. È un bel po' che non ci andiamo. Vedremo di parlare anche con l'oste. Se non sbaglio, vende anche delle carte di Gwent. Ancora non ho fatto l'episodio del Gwent. Vedrò di organizzarmi. Perché altro volevo fare una cosa abbastanza precisa. Cioè, dirvi, guardate, qui si può comprare questo, questo e questo. O di qua questo. Insomma, volevo organizzarmi per bene. Comunque, la taverna del crocevia è questa. Non abbiamo niente nuovo sulla bacheca. Andiamo a incontrare l'oste. L'oste. Allora, vediamo se ha qualcosa oltre alle bevande. Eh sì, come vedete ha delle carte Nilfgaardiane. No, questo è neutrale. Ok, il corno è il comandante è molto buono. È ingegnere da sede, impero di Nilfgaard. Unità? Unità impero di Nilfgaard. Unità impero di Nilfgaard. E comandante impero di Nilfgaard. Ok. Perfetto, quindi abbiamo ampliato un po' di Nilfgaard i nostri mazzi. Arrivederci. E vedremo, vedremo, vedremo. Dunque, eccole qui i nostri amici che se vedanno e si andrà ragione. Dove è la liberatore? Vediamo a me, come un fissile fissile. Just right for our tournament. È la vostra chance di spettare un po' di Nilfgaard e vincere un po' di dolore. Ok ragazzi inizierà subito lo scontro Quindi pariamoci subito Ah è il fabbro Ok vediamo di contrattaccarlo quando possibile Lo chiudiamo all'angolo Attenzione Attenzione No vabbè ragazzi sono semplicissimi questi eh Ok quindi altre esperienze per noi Dobbiamo andare a raggiungere Giona Giona che si trova a Ramonero Vero Ramonero 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 Si trova a Giona Ramonero Quindi andiamo a fare il culo anche a Giona E vedremo appunto di essere proclamati campioni Di cazzotti del Belen Allora Ramonero Ramonero Eccosi qua Andiamo a fare il viaggio rapido E andiamo a affrontare anche questo nemico Questo avversario Ora ci vorrà un po' fare tutte le missioni secondarie ragazzi Ma le vedremo di fare in maniera un po' spezzettata Nel senso Ora stiamo facendo tutte quelle dei pugni furiosi Quelle del Gwent sarà una cosa totalmente a sé stante Per quanto riguarda le altre Vedremo di farle mentre esploriamo Allora la Libratore Per quanto riguarda le persone Ok qui ragazzi le cose potrebbero farsi difficili Come vedete Giona gioca più sulla difensiva Che sull'attacco Però adesso si è piantato E un bel cazzotto non troleva nessuno Giona Stai lì Stai lì 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 Aia Mi è arrivato questo Giona 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 Aia Giona Giona Calmo Beccati questo 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 E questo Ok Ok quindi non è finito ragazzi Dobbiamo andare a Nido del Corvo Va bene Basterà quindi recarsi proprio da quella parte Allora 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 Questo Giona Si effettivamente era un pochino più In gamba Degli altri due Però Niente Eccezionale Allora Allora Andiamo a Nido del Corvo Che è molto vicino Però Facciamo un viaggio rapido Ci vorrà sicuramente meno E vediamo di salire nella fortezza A picchiare di cattiveria questi stronzi Ok Saliamo quindi Su nel castello E dobbiamo parlare con il sergente Speriamo che Cioè questa missione possa andare tranquillamente avanti Nonostante che le cose siano cambiate qua Alla fortezza Cioè Che è morto il barone Adesso ci sono gli altri Che controllano tutto Gli uomini del barone Comunque Sono le 19.26 Sta per calare la notte E qualunque sia l'esito del nostro prossimo incontro Andremo a passarla qui la notte Vi vedremo appunto Di ripartire domani Presto in mattinata Ci riandremo a All'Indo Vale A fare le altre missioni Che ci sono stati dati Dov'è la libratore? Dov'è la libratore? Quello che scrive Oh Chi sia tu? Cuttadino Col sergente Ah sergente Ok Ok, dobbiamo affrontare il sergente ragazzi, quindi vediamo di giocarcela bene, è un livello 12, non è semplice, però vediamo fino a che la nostra salute ci lo permette, la nostra vigore più che altro ci lo permette, di attaccare, facciamo i contraattacchi quando possiamo e via. Wow, questo ce l'hai preso amico. Fatto male, dai, dai che manca poco. Ok, quindi ragazzi abbiamo completato Pugni Furiosi Velen, penso. Vediamo un po'. Non ci viene detto niente? No, mi sa che abbiamo tipo Pugni Furiosi continuo o qualcosa del genere. Un po'. Astrofabro, no, completate. Contratto, pagando, labiristri, incidenti, montagna, ritorno, progressi, un inciaggio, per... Quante cazzo le missione? Pugni Furiosi Velen, sì, l'abbiamo completata, quindi ottimo. Io direi, già che ci siamo, invece di andare a fare nuove missioni, che magari saranno anche lunghe, di fare le gare. Le gare, ragazzi, sì, le gare a cavallo. Noi siamo veramente handicappati a cavallo in questo gioco, però vedremo appunto di fare queste gare e allenarci. Vabbè, prima di tutto facciamo una cosa, già che siamo qui. L'hanno detto che meditavamo? Meditiamo fino a mattina. Riposiamoci, riprendiamoci, andiamo a montare su Rutilia e andiamo a raggiungere il via della gara. 170 passi, quindi molto vicino, probabilmente partiremo proprio da sotto Nido del Corvo. Travolgiamo i paesani con Rutilia, che divertente farlo. No, non è proprio qua sotto. Corriamo sul bagnato, ragazzi, quindi ci vogliono gli zoccoli da bagnato. Riusciamo ad avere un'aderenza migliore. Allora, dove diavolo è? 40 passi, ci siamo quasi. Eccola qua. Se vuoi? Posso parlare da cavallo con voi? No, a quanto pare no, devo scendere. Va bene, quindi vediamo di parlare con Radko. Posso parlare? Chi va a fare con voi, fare un'aderenza migliore, poi provare il Black Baron back. L'oggiore l'occhi, il secondo è un peccato. Vengono? Quindi, chi fanno imparare? Stuttolino M-M-MATKO, Irotaattie, o Black Bogdan? Io prendo la stuttolazione fatale. Si... 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 Ok ragazzi siamo pronti 5,4,3,2,1 Vai Rutilia Vai Rutilia Ok Andate al ritorno eh ragazzi È un circuito quindi Dobbiamo seguire queste lampade La tempra del nostro cavallo È bella alta Ho potenziato la sella tra l'altro Levate di mezzo Beh beh ok No no Rutilia Non ti fa rimpietosire dalla gente No 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 Vai Vai sull'interno Travolgi i contadini Dai Rutilia Ok dai Vai non ti piantare negli spigoli Attenzione che dobbiamo recuperare gli ultimi metri Merda Dobbiamo fare la volata finale ragazzi Dobbiamo fare la volata finale E ce la facciamo Vai Rutilia ti prego No 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 Non adesso Abbiamo finito la tempra ragazzi Mi hanno sbagliato strada Cazzo Attenzione Dai Rutilia vai 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 che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Sì Ok ragazzi abbiamo sbagliato a uscire dalla pista Quindi vediamo di rifare questa cosa E vediamo di rivattere Sempre Matt col balbuziente Però stando sulla pista Speriamo che non si pianti Rutilia negli spigoli Perché è quello il problema 3 2 1 Vai Rutilia Vai Ok Vediamo di stargli non troppo lontano Cioè Facciamo riprendere anche la tempra Rutilia Senza Andare troppo veloce ragazzi Eh Ok Tanto poi si pianta anche lui Quindi vediamo di Tenerlo dietro Ma dai Guardate che scolpi Teniamolo dietro Teniamolo dietro No Non Dai Ok Adesso Abbiamo la tempra al massimo ragazzi E penso sia il momento di fare la volata Vai Vai Rutilia Vai Rutilia Anche lui ha ripreso tempra Ma Ce la faremo ragazzi Attenzione qui che abbiamo sbagliato strada prima Di qua Alla grande Alla grande Ok ragazzi Vediamo di fare Gare nido del corvo Di fare anche Le gare contro gli altri due Di fare gare contro gli altri due Quindi abbiamo Hans Schiappe d'acciaio E Bogdan il nero Andiamo con Hans Schiappe d'acciaio Sempre 25 Ok Sulla pista Sempre lo stesso anello Ragazzi Lo iniziamo a conoscere bene Adesso E via Andiamo al trotto ragazzi Non vogliamo stancare troppo il cavallo Lui cerca subito allungarci Va bene Quindi cerchiamo Di stargli dietro Gioca più aggressivo dell'altro Questo Lo sorpassiamo sull'interno Ok Adesso riteniamo Teniamo stabile la nostra velocità Cerchiamo di non piantarci Ecco Ma perché si pianta sempre Rutilia Qui Vediamo di sorpassarlo Tenere la testa Qui No Tenere la testa Ha detto qui Si pianta nei ponti Si pianta nelle strettoie Rutilia Ok ragazzi Vediamo di far riposare Rutilia Ok Penso di essere pronto Alla volata finale Vai Rutilia Vai Rutilia Vai Rutilia Non cedere il passo assolutamente A questo strotto Siamo all'arrivo Siamo all'arrivo Merda non ce la facciamo E' veloce anche lui ragazzi Merda non ce la facciamo Forse si O forse si Sulla No Sorpasso in fondo Mamma mia Rutilia Mamma mia Ok ragazzi Allora Nuova sfida Con l'ultimo Come si chiama R nel nero Bogdan il nero R nel nero E' il trono di spagna Ok ragazzi Attenzione Perché questo Sicuramente E' il più forte Dei tre Io direi di prendere subito Le distanze E cercare di mantenerci In testa Vai Sì sì Io intanto Me ne vado avanti E cerco di Prendere più distanza possibile In questo primo tratto Poi tanto dal villaggio In poi Dovremo rallentare Quindi adesso Direi di lasciare E andare al trotto Cerchiamo di Farci superare Il più tardi possibile Oppure non farci superare Per niente Quindi riprendiamo un po' Di velocità Adesso riandiamo al trotto Non mi spingere fuori Stron Levati di mezzo Risorpassiamolo Guardate Lutilia Si pianta Perché ti pianti Ok ragazzi Ce la possiamo fare Abbiamo già iniziato La volata finale Ma perché questo qui Come vedete Corre un monte La tempra Il suo cavallo Però dovrebbe essere Più bassa della nostra Perché è partito Prima di noi Siamo già nella parte finale E lo sorpassiamo Perfetto Lutilia continua A avere tempra Abbiamo potenziato La sella E questo li permette Di arrivare Prima Ok ragazzi Abbiamo completato Quindi Andiamo a vedere Nelle missioni Nelle missioni Secondarie Gwent La caduce Mastro Fabbro Completate Dovremmo avere Nedo del Corvo Lì Gare Com'era Vabbè Comunque si L'abbiamo completata Quindi non Ci sono problemi Padella Sì questi sono i contratti Quindi più su Queste sono le più vecchie Boh Vabbè Non importa Quindi abbiamo completato Questa missione Che altre missioni Secondarie Dobbiamo fare Dunque Abbiamo un contratto Ma i contratti sono lunghi Difensore della fede Ecco Andiamo a riparare Questi santuari Danneggiati Andremo a raggiungere Queste posizioni Che sono Andiamo a vedere Se c'è qualcosa Vicino Uno qua giù E uno qua Ok Quindi andremo a Mezzobosco E da Mezzobosco Ripartiremo Alla volta Di questi santuari Danneggiati Ci vediamo Fra poco Ok ragazzi Siamo appena usciti Da Mezzobosco E ci stiamo dirigendo A sud Per qualche minuto Sarà mezzanotte E quindi Andiamo a Attraversare Quello che dovrebbe essere Una specie di guado Nella palude E a raggiungere La nostra Prima destinazione Santuario della fede Da riparare Allora Uuuuh Uuuuh Che cazzo Un'endriaca guerriera Così a caso Non me l'aspettavo Eh però No arma d'acciaio Arma d'argento Ok Andiamo a tirare fuori La palestra A livello 11 Ragazzi Eh non è niente Di complicato Abbiamo Igni Perfetto Vediamo di colpirla Più volte possibile Ok Adesso Caricherà E adesso Colpo Con Igni E poi Via Ok Muori Questa Andriaca guerriera Andiamo a raccogliere Gli oggetti Mutagini di vampiro blu Non abbiamo oggetti A raccogliere Abbiamo il santuario Da riparare Qui Ok Riparato il secondo Ragazzi E quindi Dobbiamo aspettarci Un incontro Cattivo Anche al terzo A questo punto Allora 700 passi In quella direzione Ce li faremo tutti Sotto la pioggia Di notte No dai ragazzi Aspettiamo la mattina Sperando anche che Il Il tempo Cambia Aspettiamo Un'ora prima Dell'alba E infatti Ecco qui il sole Che bagna Le nostre guance E filtra Fra le chiome Degli alberi Ok Andiamo Andiamo a proseguire Per questa strada Nella foresta Seguiamo le indicazioni Che ci vengono date Dal gioco Anche perché Questa zona Non l'ho esplorata Minimamente Quindi non conosciamo Niente Stiamo andando Oh che cazzo Cazzo è un griffone Ma siamo sicuri Però è un griffone Oh Che livello è 25 Mi levo di culo Scherzavo Mi levo di culo Mi levo di culo Vado via Vado via Vado via Vado via Dove sei Lì Vieni 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 Ce ne andiamo Dai Su Non ti disturberemo più Vieni Vieni Seguici qua Su Eccoti qua Andiamo 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 Dove Oh Andiamo Allora Dove dovremo andare Quindi Mappa del mondo Ah Eh Sì Andiamo Andiamo a dritto Dove stiamo guardando adesso Evitiamo La tana del griffone Andiamo a tagliare Per Uh Disertore Livello 9 Ma c'è un campo No Non c'è niente Quindi Scriviamo i torni Se ne frega Tana di mostri Però dentro Al suolo Cosa diavolo Orso Livello 12 Ok Sto proviamo a affrontarlo Ah Uff Aia Non mi aspettavo Un Una carica Così veloce Eh ma Io ti devo Calmati Signor orso Si calmi Tieni Che ballistrate Vai Figlia fuoco Grazie Aia Tra l'altro È proprio Un livello 12 Sì che ragazzi È un livello Bello Potente Non è Uno stronzo Di un orso Un cucciolo Di orso Di un verde Sì ma Ok Siamo sotto La metà Almeno questo Aia Ok Un bel colpo Critico Ogni tanto Ma Ci vuoi Prendere fuoco Almeno Riusciamo A colpirti Di più Ok Dai Ci siamo Orso Cuoco Muori Ok Allora abbiamo una caverna Ragazzi Stiamo esplorando Stiamo facendo le cose A caso Stiamo facendo le cose E abbiamo una caverna Con una tana Con una tana di mostri All'interno Qui abbiamo degli oggetti Filo Laccio Ok Questo quindi Probabilmente è un mercante Sembra che piova Grazie che era alta Meno male Ci sei te che mi ha visitato Ma Fermi un po' E' la caverna Dove siamo andati Con 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 Kyra Mets Sì è quella E dove sono le tana di mostro Scusate eh C'erano le tana di mostro Quindi all'intorno Ho sbaglio Vabbè ma Lasciamo perdere Nella caverna Dove abbiamo Inseguito il mago Ilfico Pensavo di essere A tutt'altra parte Di la verità Però vabbè Ok Allora Andiamo a proseguire Quindi Da quella parte Ci mancano ancora 300 passi Ma proseguiremo A piedi Uh Che cazzo E' quel simbolo Forse è un portale Tipo Forse sono portali Di trasporto All'interno Del dungeon Qui ragazzi Abbiamo delle case Diroccate Stradine Ok Ci sono dei ghoul Rivello 23 Che cazzo siete Perché ci sono dei ghoul Di livello 23 Che non è una zona Dove dovrei Cirellare io Questa Mi sa eh Non volevo fare Questo contratto Mi levo di torno Mi levo di torno Perché mi ha cambiato La missione Missione secondaria Difensore della fede Vaffanculo Tagliamo a dritto Freghiamocene di tutto I ghoul di livello 23 Ma hanno fatto caccare In mano abbastanza Cazzo siete Un tronco Una pianta Sembra che è un mostro Piegato qui Nostrex Ok Speriamo non manchi molto Ancora 140 passi Sembrano belli puliti Questi passi Sento volare Sento volare Sopra di me Non vedo niente Ok ragazzi Abbiamo raggiunto Oh Spada d'acciaio Spada d'acciaio The gods The gods Are dead Weaver dispose Of their rotting remains The dying embers Of superstition That harms Great Need a favor though You gotta clean up After yourselves here Then go back To wherever you came from Dispose of those embers There Religion is the opiate Of the masses The gods are dead Thus speaks Master Friedrich Of Oxenfurt Common folk Fear religion And the priests Not the gods And this fear Enslaves us In fetters Of ignorance We must forge A new morality Or rid ourselves Of morality All together Amusing As this little show Is I'm getting bored Leave And don't come back A what Ok ragazzi Quindi Combattimento Ah Combattimento Così Perché così? Ma io voglio Voglio sbudellarli Con la spada Sennò che gusto c'è? Perché so C'è un casino Combattimento Oh Ah ok In Ok Basta così Ah Sono proprio morti Guardate come l'ho bello Corone Guanti Da cercatore Ammazza Pessante Piuma Ammazza Corone Bla 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 Comunque si L'ho ammazzato A cacciotti Ma Non so perché Non ho usato la spada Vabbè Ok ragazzuoli Abbiamo completato Quindi questa missione Abbiamo fatto Un bel po' di missioni Secondarie Quelle Della corsa Del combattimento Dobbiamo fare Guent Giocatore di Velen Dobbiamo andare a Combattere contro l'Indovino Questo lo faremo nella sua missione La caduta Hazard Riordan Mastrofabro E prenderli tutti Mastrofabro Lo faremo più avanti Ovviamente Prenderli tutti Località multiple E la finiremo Molto più avanti Ragazzi Come sempre Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Lasciatemi un commento E iscrivetevi a Break2Play Un saluto a tutti Da Nicolas Ci vediamo nel prossimo video